ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft oggi come già si può vedere sono in creative e questa qui è la mia casina su un mondo che ho appena creato ci ho messo tantissimo a farla cioè non mi ricordavo di che cosa devo fare al pavimento e quindi ci ho messo un'eternità comunque come si può vedere dalla mia manina così ho cambiato skin infatti guardate che bella e questa penso sarà la mia skin definitiva e quindi oggi vi farò vedere la mia casa non questa ma nel senso la mia casa con i miei colori il blu e l'azzurro soprattutto l'azzurro quindi facciamo così facciamo così così poi non so se avete già capito lo stile che voglio fare e ho sbagliato tutto deve essere giusto uno più in là no era giusto ehm ah ok 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 allora calmiamoci non sto capendo niente allora no che cavoli ho un'idea migliore forse allora ragazzi io ci vediamo dopo quando avrò capito come fare ok ragazzi sono riuscita a fare la divisione non è uguale per tutti i muri perché praticamente i muri erano diversi eh lo so eh vabbè quindi ho fatto anche il pavimento e ho deciso la porta e così allora adesso dobbiamo arredare ah giusto no no non va bene questo colore così questo vetto è più bello vedete così e poi ehm le scalette ovviamente qua allora questo e poi qui prendiamo i cactus non c'è un fiore ecco o questo no azzurro mi piace di più perfetto poi ehm diciamo così e ci serve aspetta devo farvi una cosa guardate la mia schiena con l'armatura in diamante è bellissima poi se è pure incontata è ancora più bella allora mi servono degli scalini ci sono scalini blu cioè sì eh diciamo un divanetto ops divanetto comodità comodità estrema così e poi no ho bagliato questi qui così perfetto divanetto comodo cos'è che manca poi ah vabbè il tetto poi lo facciamo manca tutto praticamente secondo me ci può andare un bel tappetino ovviamente blu no di questo colore non piace allora ops aspetta non è centrale questo tappetino ora ora è centrale allora uno due uno due tre non è ancora centrale non ci credo vabbè lasciamolo così più bello allora se sentite delle urla è mio fratello che gioca allora continuiamo ci serve secondo me vabbè casse crafting table e roba del genere cassa crafting table questa secondo me è una bella armatura e poi queste due l'armatura ovviamente in diamante cioè il casse non ha un'armatura in diamante mettiamo qua crafting table ops così questo e poi questo 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 e un altro un muro di cesto perfetto così anzi forse è meglio che l'enchanto allora via questo questo insieme a così ehm il tavolo del crafting table eccolo qui perfettamente e vabbè tanto serve anche questo quindi forse è meglio togliere questo e metterci questo così perfetto spine spine questo questo tra colpa e poi direi la posa importantissima così così mi piace dormiamo e vi voglio ovviamente vi devo mostrare come sono con tutta l'armatura ho perso ho perso la mia spada devo sistemare dov'è perfetto 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 manca il tetto poi abbiamo finito allora ehm scusate un secondo che cosa ehm ah ok è un normalissimo fungo allora finiamo la mia casa io direi che ci vediamo dopo quando faccio adesso il materiale che uso queste quando ho finito dopo allora ragazzi questa qui è la casa il tetto ehm se mi ricordo bene l'ho preso da Alex Nauts amico di Lion io infatti sono una fan ehm direi che questo video si può concludere qui un bacione un abbraccio ciao 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 ciao